L'estate è finita e il maltempo non tarda ad arrivare. La protezione civile ha infatti diffuso un'allerta meteo gialla per il rischio metro ideologico e idraulico valido dalle 16 del 7 ottobre alle 24 dell'8 ottobre 2019. Una ondata di maltempo con intensi nubi fragi e violenti temporali sta per abbattersi nelle prossime ore sull'estremo sud Italia. Intensi fenomeni interesseranno in particolare Sicilia e Calabria per le quali il Dipartimento di protezione civile ha emesso un'allerta meteo a causa di criticità idrogeologiche e idrauliche. Nel dettaglio per oggi è allerta arancione per i settori settentrionali della Sicilia e allerta gialla invece sui restanti settori dell'isola e su gran parte della Calabria dove saranno possibili fenomeni anche importanti accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forte raffiche di vento. In particolare è prevista moderata criticità sulla Sicilia nord orientale, sul versante tirrenico e sulle isole olie, tutta colpa dell'intensa perturbazione che ha già interessato il resto dell'Italia e che si sta progressivamente allontanando verso sud, lasciando i suoi effetti sulle due regioni meridionali. Alla luce dell'allerta martempo diranata dalla protezione civile nazionale, molte autorità locali sono intervenute in queste ore decidendo di chiudere le scuole. In particolare per oggi le scuole resteranno chiuse a Catania e in diversi comuni della provincia, come ad esempio a Cireale ed a Cicatena. Il quadro meteorologico e delle criticità previste sull'Italia è aggiornato quotidianamente in base alle nuove previsioni e alle vorvesi dei fenomeni ed è disponibile sul sito del Dipartimento della Protezione Civile, insieme alle norme generali di comportamento da tenere in caso di maltempo al bollettino nazionale. Le informazioni sui livelli di allerta regionali, sulle criticità specifiche potrebbero riguardare i singoli territori e sulle azioni di prevenzione adottate sono gestite dalle strutture territoriali di protezione civile in contatto con le quali il Dipartimento seguirà l'evolversi della situazione.